Il Consiglio di Stato per ora ha confermato che il titolo edilizio che era stato in qualche modo richiesto e ottenuto dalla ditta per realizzare al posto di un fabbricato, che è quello esistente di due piani, un fabbricato di nove piani, moltiplicandone anche le cubature e le superfici, non poteva essere realizzato. E quindi in realtà è stato annullato. Questo è l'elemento che in qualche modo il Consiglio di Stato consacra con una sentenza definitiva, ponendo termine ad una vicenda che in qualche modo aveva anche allarmato sotto più profili la comunità. L'ecomostro non si farà. Il Consiglio di Stato ha confermato quanto già deciso dal TAR con sentenza definitiva, stabilito che il cinema ex Ariston a Campobasso può essere demolito ma al suo posto non potrà essere costruito. Un fabbricato di nove piani e di 9.000 metri quadrati al posto degli attuali mille. Un immobile di nove piani al posto di uno di due in una delle zone più congestionate del capologo. Il permesso di costruire, sottolinea l'avvocato Pino Ruta, legale del Codacons, che insieme all'amministrazione di Palazzo San Giorgio e alla soprintendenza si era opposto al progetto, era oggettivamente sproporzionato e quell'intervento avrebbe avuto un carattere sociale, collettivo e dunque pubblico rilevante. E allora la domanda nasce spontanea. Cosa sorgerà il luogo dell'ex Ariston? Quale sarà il futuro? Cioè cosa si potrà in qualche modo fare? È evidente che dovrà essere oggetto di una nuova valutazione, di un nuovo iter istruttorio, quindi urbanistico ed edilizio e quindi di un nuovo progetto che in qualche modo va rivisto da capo. Dalla sentenza emerge che la valenza storica del fabbricato è stata riscontrata in maniera carente. Tuttavia l'avvocato Ruta sottolinea la necessità di effettuare manutenzione, meno quella di mettere in atto interventi molto impattanti. Molte volte si ricorre a delle considerazioni che di partenza possono essere anche esatte, che esistono chiaramente fabbricati probabilmente datati, che richiedono attività manutentive, per poi legittimare degli interventi speculativi o sproporzionati che sono oltremodo impattanti. Ecco, questa è una prassi probabilmente alla quale bisogna in qualche modo porre termine, cioè sotto le premesse che possono in qualche modo avere una considerazione esatta del tipo il fabbricato si sta deteriorando, dire demoliamo tutto e costruiamo i grattacieli di Manhattan per dar luogo ad altre operazioni.